L'esposizione sull'avanguardia russa in mostra a Palazzo Strozzi a Firenze, vista con gli occhi di un siberiano d'eccezione. Nicolai Lilin, scrittore e autore di quattro libri, tra cui il bestseller Educazione Siberiana, da cui Gabriele Salvatore s'ha tratto anche un film, mentre si muove tra i quadri e le opere della mostra, mescola ricordi e suggestioni, come davanti a questo tappeto che gliene ricorda uno simile, visto da bambino, appeso in casa della nonna. Io ho chiesto a mio nonno che cos'era questo tappeto e mio nonno mi ha detto, guarda questa è tua nonna che ha voluto ricordare il momento in cui io l'avevo rapito dal harem di un sciico. Io ovviamente ero piccolo, ci ho creduto, ho detto, Cristo mio nonno ha rapito la mia nonna dell'harem di un sciico. La storia era inventata, ma spiega da chi Lilin potrebbe aver preso il talento per la narrativa. Tra poco uscirà con un nuovo libro nel quale racconterà la Russia che si è lasciato alle spalle, quella della guerra civile del dopo Unione Sovietica, ma anche la Russia contemporanea, con le sue leggi omofobe e la rinnovata censura. La corruzione comunista, la corruzione sovietica, la nomenclatura sovietica, ormai non esiste più. Il suo step è passato in cavallo tra gli anni 80 e 90. Adesso c'è una corruzione totalmente di stampo occidentale. Un altro tratto che accomuna Lilin con gli artisti esposti a Palazzo Strozzi. Un rapporto tutt'altro che a critico nei confronti del potere.